Rieccoci, ben ritrovati da Marcus. Allora, il primo 90 è andato a finire martedì a Bari al nono colpo, poi questa sera questi due di Roma-Torino, che vi avevo detto da tempo, sono passati quindi sei colpi e questa sera arriva il 90 su Napoli in quinta posizione. Bene, adesso già l'anteprima vi faccio vedere, perché di nuovo la situazione è fortissima su Firenze e Roma, perché arriva di nuovo due contributi come Roma-Torino, che sono andati a finire Milano-Napoli, e di nuovo adesso guardate cosa succederà, quello di Bari di martedì va a finire Roma, poi quello di stasera va a finire Firenze, quindi di nuovo due condizioni su ruote gemelle, più bello di così non si può, quindi un altro 90 prossimo o su Firenze o su Roma. Guardate, martedì il 90 di Bari che va a finire a Roma, che si riflette a Firenze, quindi uno e due, poi questa sera quello di Napoli va a finire a Firenze, e quindi abbiamo due connessioni, la prima connessione è quella di Bari, la seconda connessione è quella di stasera di Napoli, e entrambe questi 90 vanno a finire come Milano-Napoli in due ruote gemelle, quindi fortissima la condizione, sono andato già a vedere la frequenza, poi domani riferò un altro video e andiamo a vedere le frequenze, le posizioni dell'ambata contata, sempre le quinte posizioni, e l'8++ gold dalla prima alla terza, quindi su Firenze e su Roma un poco la terza, molto forte la quarta e anche la quinta, quindi queste bellissime posizioni su Roma e queste qua su Firenze, quindi doppia forza, come vi ripeto, come successo su Milano-Napoli, dato da questi due Roma-Torino, e adesso di nuovo, martedì, questo doveva a finire su Roma, e questa sera questo doveva a finire su Firenze, doppia condizione e doppia forza, doppia connessione per queste due ruote, le frequenze sono fortissime, quindi un altro 90 prossimo su Firenze o Roma, vi abbraccio, arrivo negli scontrini, poi faremo i resoconti, buonanotte a tutti, ci risentiamo domani, ciao da Marcus!